Mostri. Mostri. Attenzione a tutti gli alieni! Distruggete tutti i mostri! Volete un po' di questo? Se vuoi toccare i miei amici, dovrai passare dal mio corpo. Oh, sì! Oh, no! Susan! Non ci credo, ce l'abbiamo fatta! Oh, per Giove. Attenzione, intruso. Non puoi decifrare il mio codice colori. Un codice colori esadecimale non sarà certo un impedimento. Rosso, verde e blu. Giallo, arancio, viola, rosa, malva, oro, marrone, moca, avocado. Advo, gol! Dottore, forza, balla! Le tue patetiche mosse non possono infrangere i miei protocolli di sicurezza. Non riusciremo a tenerli fuori a lungo! C'è una sola cosa che non sai di me, mia cara. La mia specializzazione è sulla... Danza, danza, danza! Protocolli di sicurezza infranti. Cosa? La nave è programmata per l'autodistruzione. Anniatamento totale in T meno sei minuti. Beh, da inizio all'invasione allora! L'invasione non è più possibile.